Per andare a inserire un nuovo campo, sarà necessario recarsi nella sezione Mappa. Andando su Nuovo campo, qui potremo o importare dal formato Shapefile i campi che sono già stati mappati, oppure disegnare di nuovi. Al fine di raggiungere la zona di interesse nel quale sono presenti i campi che vorremmo disegnare, sarà necessario o inserire la posizione, oppure georeferenziarsi. Alta raggiunta la zona di interesse, potremo andare a disegnare il nostro campo. Se vorremmo essere maggiormente precisi, potremo utilizzare come sottofondo il layer Catastale. Quella del Catasto è soltanto un'opzione. Per disegnare il campo, basterà andare in Nuovo campo e Disegna. Qui andremo ad inserire i punti che costituiranno il perimetro del nostro campo. Una volta che il primo punto incontrerà l'ultimo punto, il campo verrà automaticamente creato. Qui dovremo inserire obbligatoriamente il nome del campo e avremo una serie di informazioni aggiuntive. Importante per rendere il campo attivo, inserire la coltura. Una volta creato il campo, nella sezione Mappa, troveremo la leggenda con il colore rappresentante la coltura assegnata al campo. Il campo appena disegnato comparirà poi automaticamente nella sezione Campi. Cliccando sul campo, potremo andare a modificare le informazioni che abbiamo inserito.